Mi chiamo Fabrizio Angelo Benicchietti, torinese, 81enne, già professore di filologia semitica presso l'Università di Torino, membro dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ho avuto la fortuna di avere degli splendidi allievi, che ora sono professori ordinari e associati in varie università d'Italia. Ho partecipato a varie spedizioni archeologiche in funzione di epigrafista in Turchia, a Malta e per lungo tempo in Iraq. Il tema del mio intervento sarà l'arabo letterario moderno può dirsi una lingua europea. È un titolo un po' curioso, un titolo che potrebbe sembrare peregrino, proprio perché è molto radicata nella percezione degli italiani, l'idea dell'alterità dell'arabo rispetto alle nostre lingue. Eppure si può dimostrare che l'arabo, assieme alle lingue semitiche in genere e le lingue indo-europee parlate nell'Europa occidentale, sono legate dallo stesso destino. Mi spiego. Tipologicamente tutte queste lingue condividono da millenni tratti morfologici e sintattici che le contraddistinguono rispetto in particolare alle lingue turciche e a quelle ugrofiniche o uraliche. Cito per esempio la distinzione tra un genere maschile e uno femminile. È un tratto importante perché in Europa esistono alcune lingue in cui questa distinzione di genere non è percepita, non è presente in ungherese, in finlandese, in estone, tanto per parlare di lingue statali. Per cui in queste lingue lui vuol dire lei, lei vuol dire lui, in arabo c'è un lui e c'è un lei come in italiano. La presenza di preposizioni e buona parte delle lingue europee non hanno preposizioni, hanno posposizioni. La presenza di congiunzioni, di frasi relative introdotte da un pronome che segue l'antecedente nominale. In turco la frase relativa precede l'antecedente nominale, che non è più antecedente. E così via. Quindi si vede come l'arabo condivide parecchi tratti linguistici con l'italiano per esempio. L'arabo inoltre, lingua semitica che si è formata nella penisola araba nord-occidentale, ha fatto parte di una vasta area linguistica che per la prima volta è emersa, dove per la prima volta è emersa la funzione dell'articolo definito proclitico. Come in italiano, illola, ilile, che precedono il sostantivo. È un'area che si è delineata avendo per epicentro l'Egitto, a partire dal nuovo regno. Che vuol dire nuovo regno vuol dire 1580-1085 avanti Cristo. È un periodo questo del nuovo regno in cui l'Egitto ha goduto di una espansione culturale, politica e straordinaria. Sembra che l'egiziano, che era una lingua parlata solo nella ballata del Nilo, in quel momento viene parlato anche al di fuori, un pochettino come una lingua coloniale. Si diffonde un modo di parlare che non aveva precedenti fino allora. Nasce l'articolo, l'articolo prepositivo definito. Partecipano a queste innovazioni è naturalmente l'egiziano, il cosiddetto tardo egizio, e poi l'arabo preistorico che noi non conosciamo ma che è certamente esistito. Le lingue cananaiche come il fenicio e l'ebraico. Anche il fenicio e l'ebraico hanno un articolo come l'arabo e come l'italiano. Le lingue libico-berbere dell'Africa del nord. L'espansione culturale egiziana tiene conto anche dell'Occidente. In tutte queste lingue viene introdotto l'articolo. L'articolo a un certo punto perde la sua funzione, per cui viene risucchiato dai nomi. I nomi femminili iniziano con la T e finiscono con la T. Tamanrasset, se uno guarda sulla carta geografica, vedrà spesso che tutti i nomi femminili iniziano con la T e la T era il vecchio articolo femminile, mentre tutti i nomi maschili iniziano con la A, che era il vecchio articolo maschile, eccetera. Sul versante settentrionale del Mediterraneo l'articolo si diffonde tardi, in epoca post-America, ma l'articolo proprio dal greco si diffonde in occidente, scavalca il latino, che diventa una caratteristica delle lingue neolatine, si diffonde poi nelle lingue germaniche, lungorreno e oltre. Ci sono lingue germaniche attualmente parlate, in cui l'articolo esiste ma è posto dopo, come lo svedese, il norvegese, il danese e l'islandese. L'articolo viene messo dopo. C'era una lingua germanica che non aveva ancora l'articolo, che era il gotico. Bene, buona parte delle lingue d'Europa non hanno ancora adesso l'articolo, non l'hanno esperito tutte le lingue slave, salvo il macedone e il bulgaro, che hanno un articolo messo dopo, come in albanese e come in rumeno. Vediamo quindi come l'arabo è ancora sotto questo punto vicino all'italiano. E proprio, ecco, quindi in seguito, ecco, quindi abbiamo varie fasi nella storia dell'arabo. C'è una fase importante, importantissima. In seguito alla diffusione dell'islam, l'arabo è divenuto a sua volta perno di un'ancora più vasta area linguistica, quella delle cosiddette lingue islamiche. Esistono delle lingue islamiche che sono state magistralmente descritte da Alessandro Bausani, che era un professore dell'Università di Napoli e poi di Tiro. Si tratta delle lingue che hanno assimilato in larga misura il lessico arabo per definire, in buona parte dell'Africa e dell'Asia, i termini di un nuovo e originale patto di convivenza civile, la civiltà islamica. Colui che ritengo il più eminente studioso contemporaneo della storia della lingua araba e della lingua ebraica, l'israeliano Joshua Blau, che ha attualmente 101 anni, ha individuato nel cosiddetto Standard Average European, SAE, che può tradursi in modello condiviso dalle lingue europee, un'ulteriore area linguistica in cui l'arabo è destinato a far parte. La definizione di Standard Average European è stata coniata da Benjamin Lee Worf, deceduto nel 1941, era uno studioso degli statunitense della lingua uto-asteca Hopi, una lingua amerindia dell'Arizona, che riflette una concezione del tempo e dello spazio assai diversa da quella espressa delle lingue europee. A questo punto Worf si è chiesto ma quali sono le caratteristiche dunque delle lingue europee? rientrano nell'Ostea dell'Evro e Europea, lingue che hanno convissuto in Europa dall'alto medioevo, assumendo e condividendo nella loro grammatica determinati tratti distintivi, quali l'articolo definito o proclitico, la frase relativa a post-nominale introdotta da pronomi relativi, il verbo ausiliare avere, io ho mangiato, eccetera, per formare il perfetto perifrastico assieme a un participio passivo e tanti altri tratti non solo grammaticali ma anche sintattici presenti soprattutto in francese e in tedesco e in misura minore e in quasi tutte le altre lingue europee. Per definire l'appartenenza di una lingua allo standard average europea non vengono comunque tenuti in conto né la condivisione della fraseologia né i calchi linguistici presenti nel lessico. Questa è una grossa mancanza ed è proprio sui calchi lessicali e sulla fraseologia dell'arabo letterario moderno che Joshua Blau, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ha invece rivolto la sua attenzione dimostrando che da quando nei paesi arabi, in particolare in Egitto, in Siria e in Libano, nella prima metà dell'Ottocento è stata introdotta la stampa ed è nato il giornalismo. L'arabo letterario si è progressivamente avvicinato allo standard average europea, soprattutto nello stile giornalistico. La necessità di adattare il lessico straordinariamente ricco dell'arabo ai bisogni della cultura moderna ha provocato l'introduzione di nuovi termini e di una fraseologia nonché marginale i mutamenti addirittura della sintassi. Nella scelta dei termini per designare nuove realtà l'arabo ha attinto in qualche caso al patrimonio lessicale avito. Si vede per esempio il termine carava che vuol dire elettricità. esso deriva dal persiano carava, ambra gialla, alla lettera ciò che attira la paglia, car. Vedi arabo elektron, ambra, che ha poi appreso il significato di elettricità, elektron. Altrimenti sotto la pressione dello standard average europea l'arabo ha esteso il significato di termini consueti, comuni. Per esempio sanduc, che voleva dire cesta, anche cassa, assunto per imitazione del francese e dell'italiano, perché no? Il significato specifico bancario di cassa, cassa della banca, eccetera. Anche tagliar, che vuol dire corrente, flusso d'acqua, significa per estensione corrente di pensiero, eccetera. Haraka, movimento, moto, vuol dire anche movimento politico, eccetera. Ecco, allo stesso modo madrasa, edificio scolastico, si è caricato del significato di comunità che condivide una certa dottrina, la scuola. Esempi di questo genere sono, sai, numerosi e non possono certo essere riportati qua. Se grande è stata l'influenza dello standard average european, soprattutto l'influenza del francese, nel conio di singole parole arabe, ancora più rilevante è stato il suo impatto nella fraseologia dell'arabe. Beh, io qui do un elenco breve, però sempre molto arabo, nel senso che Anqad al-Ma'opef vuol dire salvare la situazione. Mai prima di allora si era pensato che la situazione potesse essere salvata. Quindi entra quest'idea di salvare l'arabe, oppure Talabayadah, questo è molto interessante, in luogo di Khadabah, chiedere la sua mano. Ma gli arabi dicono, ma perché gli occidentali chiedono la mano? È assurdo, insomma, attualmente ammettono che si possa chiedere la mano della futura sposa. Perché è un francesismo. Regnò l'anarchia, ma l'anarchia non può regnare, eppure è entrato, anche gli arabi dicono, regnò attualmente l'anarchia. Regnò il silenzio. Uccidere il tempo. Mai prima di allora si era pensato che il tempo potesse essere ucciso. Attualmente si pensa, si dice questo. Gettare sabbia negli occhi. Beh, è stato fatto, ma non nel senso nostro, gettare sabbia negli occhi. E ecco, rappresentare la pubblica opinione. La torre d'avorio. Mai pensato che ci fosse una torre d'avorio. La luna di miele. Oh, novità, attualmente si dice appunto Shah al-Hassal. Egli diede lezioni. Le lezioni non si danno, ma adesso si danno. Egli gioca con il fuoco. La sua voce lo ha tradito. Quindi sono tutte, traduco dall'arabo, queste locuzioni che non facevano parte della tradizione araba. Non risparmiò sforzi. Ma avevano mai pensato che gli sforzi potessero essere risparmiati. O la guerra dei nervi. Mai pensato. La lotta per la vita. E' anche strano che non avessero mai pensato che si dovesse lottare per la vita. A questo proposito è opportuno ricordare che la fraseologia dell'arabo letterario è influenzata soprattutto dal Corano, dato che in una società tradizionale quale quell'araba la cultura viene trasmessa soprattutto dall'apprendimento a memoria dei testi classici. Comunque, nello stile giornalistico, ma non solo in quello, laddove i giornalisti arabofoni si sono abituati a tradurre da lingue europee, sono penetrate anche locuzioni di evidente derivazioni dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Ne do qui alcuni esempi. Per esempio, pietra d'inciampo. Pietra d'inciampo viene da Romani 9.32 o prima lettera di Pietro 2.8. Pietra angolare, Isaia 28.18, Giobbe eccetera eccetera. Nulla di nuovo sotto il sole, ecclesiastico 1.9. guadagnerà col sudore della sua fronte. Genesi 3.9. Il capro espiatorio. Sono tutti termini che sono normali nel giornalismo, ma ormai nella letteratura araba, che non fanno parte del pensiero islamico. capro espiatorio, levitico. Per un piatto di lenticchie, pensa un po'. La coppa dell'ira, Isaia 51.17. Faccia a faccia, addirittura un'espressione così e sembra nuova. Pianse amaramente. Qui è il momento di Pietro che piange amaramente. Non si era mai pensato che si potesse piangere in modo amaro. Non restò pietra su pietra. Gettò le perle ai porci. Matteo 7.6. Queste espressioni si trovano sia nel giornalismo arabo, fondamentalmente islamico, che nel giornalismo israeliano, fondamentalmente giudaico. Tutti i termini di una fraseologia antico e nuovo testamentario. Locuzioni quindi neotestamentarie di questo genere sono attestate anche nell'ebraico israeliano, come ho detto. Esse si sono sedimentate nello standard average europeo inteso come blau, come fa blau, grazie alla memoria collettiva dei popoli europei, maturata attraverso secoli all'ascolto delle prediche e dei sermoni tenuti la domenica nelle chiese. Dobbiamo pensare a questi secoli di presenza settimanale alla predica o al sermone. Il vecchio slogan, all'arabia la tatanassaru, la lingua araba non può cristianizzarsi. Di chi nell'ottocento paventava il rilevante ruolo sostenuto degli intellettuali arabo-cristiani nella rinascita della lingua letteraria araba, nei campi della stampa quotidiana, delle lettere e della lessicografia, non verrà certo mai smentito nel futuro. Forti spinte emotive di carattere religioso e nazionalismo nazionalistico pan-arabo non abbandoneranno mai il destino dell'arabo letterario moderno. Credo invece, con ragionevole sicurezza, che si possa prevedere che al-arabia saufa tatta al-rabu, cioè che l'arabo letterario moderno si euro-pizzera, nel senso che esso diventerà sempre più affine alle lingue riconosciute come appartenenti a pieno titolo dello standard average europeo. Non si tratta di uno spiccio colorato di eurocentrismo, ma della realistica constatazione che l'arabo, un tempo lingua letteraria di una cultura a lungo medievale, basata sulla religione e sempre più integrato nella cultura dominante a livello mondiale. Piccolo inciso, nell'Europa comune si parla una lingua araba, che è la lingua maltese. Il maltese è una lingua araba, diciamo non islamica, una lingua araba cristiana, adotta l'alfabeto latino e fortemente influenzata dal siciliano. In ogni caso è una lingua araba pienamente integrata nello standard average europeo. Grazie per questo ascolto.